ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare dell'azienda Savadal che mi ha inviato questo pacco adesso vi faccio vedere che cosa c'è all'interno allora come prima cosa troviamo questo orologio ho scelto questa immagine della stella marina che è davvero bellissima poi qui troviamo troviamo questo quadretto che ho scelto con questa foto quando mio fratello si è laureato davvero bellissima come stampa ho scelto pure la cornice questi qua zig zag e poi voglio far vedere la particolarità di questo marchio di Savadal che è praticamente questi quadretti hanno una calamita quindi è molto semplice da poter applicare al muro quindi non c'è bisogno neanche di fare chiodi praticamente si mette questa etichetta monouso che è adesiva comunque attaccata alla parete si pressa comunque per 5 secondi dopodichè viene attaccato questa piastrina di ferro in modo tale che poi va appeso comunque va ad appoggiarsi poi la calamita quindi il quadretto resta sul muro ed è davvero un'idea carinissima e quindi non va a diciamo a rompere il muro con il chiodo ma è tutto adesivo e con la calamita stessa cosa comunque vale anche per l'orologio qui dentro all'interno troviamo le viti e poi ci saranno anche le pile da dover cambiare e poi qui c'è la piastrina di calamita che va comunque messa su questo adesivo appeso al muro e la piastrina io ringrazio ancora l'azienda sabal per questi per questo quadretto e questo orologio vi lascio qui sotto il sito dove poter acquistare i quadretti personalizzati o comunque un orologio grazie ancora attrapposito attrapposito Grazie a tutti